Archiviata la prima prova questa mattina alle ore 8.30 è stato aperto il plico telematico con all'interno le tracce della seconda prova. Seneca all'Iceo Classico, studio di una funzione allo scientifico. I maturandi hanno avuto a disposizione dalle 6 alle 8 ore di tempo per svolgere il secondo scritto che vale 20 punti per il voto finale. Oggi la seconda prova come è andata? Eh dai allora mi aspettavo sicuramente molto peggio, non è andata benissimo come mi aspettavo però dai poteva andare veramente peggio. Diciamo che i problemi erano terribili, diciamo che io ho puntato tutto sui quesiti quindi dai se ho fatto bene i quesiti, un po' benini i problemi. Si punta a una sufficienza, 10-12 punti. Ma speravo meglio in realtà più che altro perché i problemi erano molto difficili, molto ostici, soprattutto quando li ho letti all'inizio non sapevo quale fare. Infatti penso sia andata abbastanza male purtroppo però si punta comunque ai 5-6 crediti su 20 quindi è un po' male. Io spero bene, mi sono fatta prendere un po' dall'ansia, era quello che avevamo studiato perché la traccia io faccio il liceo delle scienze umane, era una traccia sull'attivismo, la democrazia e spero sia andata bene però non lo so vedremo il giorno dell'orale quando mi daranno l'esito. È andata abbastanza bene, comunque era molto fattibile, rispetto alla prova di italiano era molto meglio secondo me. Onestamente è stata abbastanza difficile nel senso che era un argomento che avevamo fatto già a scuola però argomentare comunque, fare collegamenti non è stato facile, soprattutto ai quesiti perché erano di più argomenti. Cosa la trattava? Allora io ho fatto sulla globalizzazione perché il mio corso è economico-sociale, abbiamo fatto questo argomento però ad esempio i quesiti chiedevano anche sul governo oppure magari facevano anche collegamenti sullo Stato democratico, erano più argomenti differenti tra di loro. Terminati gli scritti, ora all'orizzonte c'è l'esame orale come ultima grande prova della maturità. Come ti stai preparando per l'orale? Per l'orale? Io sto ripassando tutte le materie dall'inizio, mi sto focalizzando più che altro su scienze e fisica senza sottovalutarle altro ovviamente, ma soprattutto scienze e fisica perché sono le materie più difficili. Sto studiando con i miei amici ma anche da sola a casa tutto il giorno praticamente, però sono abbastanza pronta, mi sento abbastanza pronta. Grazie, ora l'esame orale? Sì, manca solo quello. Quando? Il 5 luglio, quindi a due settimane per prepararsi e poi finalmente si spera di uscire da qui. Sto studiando in compagnia dei miei amici, studio da sola, comunque cerco di fare collegamenti, informarmi sui giornali, guardando la tv, cerco più o meno di informarmi il più possibile per arrivare lì e cercare di fare buon collegamenti alla fine.